Sindaco Giancarlo Canepa, solo un paio di giorni fa ci siamo sentiti per annunciare questo importante evento ed ecco finalmente oggi giungere a compimento sulle ali dello sport. Sì certo, questo è un appuntamento al quale noi tenevamo molto, è la seconda edizione, perché si può parlare molto di disabilità, di pari opportunità, se ne può parlare molto, però per i ragazzi la cosa importante è vedere coi propri occhi, quindi avere l'esempio concreto che una disabilità non è discriminante, ma anche tutt'altro non è un impedimento per lo sviluppo e per portare avanti quello che sono le proprie passioni.